www.michelle.com Mi sono andato bene quando lo pronunciavo. Come ti chiami? Michelle. Mia madre avrebbe voluto chiamarmi Vincenzo. Pensava che fosse un bel nome e che portasse fortuna. A me piaceva, ma non era poi così importante. Che importanza può avere un nome quando non sei in grado neanche di scegliere un padre per tuo figlio? Mi sarei chiamata Francesca, un nome che piaceva moltissimo a mia madre. Nome semplice, pulito, normale. Noi siamo aria. Siamo sogno. Noi siamo luce. Siamo vento. Siamo apra. Giro, giro tondo, casca il mondo. Casca la terra e tutti giù per terra. Giro, giro tondo, casca il mondo. Giro, giro tondo, casca il mondo.